E' un big basket estivo Vediamo Allora Insegna il veicolo alla tua base No Aspettate Mamma mia quanta gente che c'è sta Pericolosa la situation Ok Ma Shadow Quanto sei gentil Da dove partono le lampe Ma gentilissimo Shadow Ma facciamo così Vado ma sta macchina Regà sta macchina Io non la sopporto Non si controlla Sembra quasi di Che c'ha input lag Li saluto No non ce la fa Senza facciamo il giro Allora io devo assolutamente Consegnare 47 milioni Di auto Cortesemente Ma ah ma gira Gira perché è distrutta Regà ecco perché Già queste rampette Sono buggate Sentite facciamo un tour Come si deve E' briciotta Consegnata e non va bene Questa cosa Regà Non va per niente bene Complicatissimo Veramente complicato Veramente complicato Però si è buggata Teoricamente Salta di più Quasi regà Quasi Quasi Però la macchina E' distrutta Veramente distrutta Dobbiamo sperare Di atterrare bene Però è bello Perché così è più Complicato Il canestrino Complicatissimo Regà Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci sono macchine Ehi Pietro pì E' mia Sta kill Com'è Non mi è andata A me La kill Che sta a fare Che abbre 18 Con quell'elicotterino Mi sta Andando a combinar Qua regà Andiamo Sali con me Alex Sali con me Andiamo 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 Piccolo Alex E macchine Ci sono Due Due Bei bolidi Era mia Sta macchina Era la mia Andate a consegnare Ah perché Finchè nessuno Consegna Non spawnano Questo è vero E' verissimo Attendiamo Una Quina Una bella Macchinetta Qua Ah Pietro pì Che te devi Vendicare Vorrei sapere Cosa Cosa Te devi Vendicare Regà Macchine 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 No Non si sono Buggate di fuori Non ci voglio Credo Non ci voglio Ma regà Ma gli elevate Sta macchina Così andiamo A consegnare Regà Levate Gli Sta macchina Pietro Pio Ci buttiamo Dov'è che Spawneranno Ah questa è la nostra Squadra Qui Oh No La macchina C'era la macchina Ho tardo Sbagliata Per il paracatute Troppo 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 Tardi Era presa Alex Sì Forse mi sta aspettando Sì Grozzo Ah c'è un'altra Alex Sì ma io posso aprire il paracatute All'ultimo secondo Regà Non posso aprire il paracatute All'ultimo secondo Io non posso Regà Bravo Dari Sergio Che ha consegnato Bravissimo Allora Dobbiamo fare il loop Però bellissima Questa cosa Che a porchita Li ha messo Che bisogna fare un loop Meravigliosa La piattura Che ci vuole sempre Quel pizzico Di Di Difficoltà Secondo me Nei canestrini Eh vedete Tutto perfetto Se no non viene Non la danneggiamo troppo Perché se no dopo So cavoli nostri Regà Non fate troppo Incidenti Oh Alex No Se atterriamo male È andata pure Su di giri Ah regà Si danneggia Si danneggia Si danneggia Stanno vincendo loro Questa cosa Non mi piace Regà Non mi piace Questa cosa Troppi giri Troppi giri Troppi giri Troppi giri Allora Quello che devo capire Secondo me Non serve Tanto Questo è un asciugamano Non serve Tanta Velocità Regà Madò Perché è così Complicato Perché 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 Questa macchina La dobbiamo provare un giorno In un level asian Regà Ti giuro Voglio fare un level asian In questa macchina Già è terribile Figuriamoci In un level asian Forse 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 Il boost C'è Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che avrei 18 No 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 Si 100 rp Ma tag 100 rp Abbiamo vinto Abbiamo perso Non c'ho io che abbiamo perso Abbiamo subito Un altro round Ok regà Questa volta Vinceremo promesso Comunque per poco Abbiamo perso Non mi ricordo I punti finali Che peccato Che peccato Che peccato Che peccato Andiamo Ehi Drex Non solo abbiamo perso Devi pure trollare Sta girando Pure una zanzara Allora Piano abbiamo detto No No Allora Frankolino Trollato Non ci voglio crede Shadow Mezzo Allora Tutto bene Darkness Tutto bene Se faccio punti Va ancora meglio Va meglio Te lo assicuro Mamma mia Meglio dei così Comunque non serve Tanta velocità Prego ti prego ti prego Si Il primo punto è d'Arsuino Ma chi è che entra Con l'elicottero Guardino Te lo vorrei sapere Qui dobbiamo consegnare Si Me ti permetti A prendertela Con Alex Aramelo 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 Cortese Aramelo Aramelo Ah io Non ho fatto nulla Assistita Ok No Che assistita Non lo so Cosa è successo Non mi chiedete niente Perché non si sa niente Non si sa un bel niente Macchinetta Mia sta macchinetta Vieni No No raga Dava tag Penna Beh tanto Spawniamo Quell'elicotterissimo Quindi State tranquilli Voglio aiutare i punti Buono Stiamo vincendo sempre noi Ma se nessuno consegna Raga Ho visto una macchinetta Se la so già presa Credo proprio di si Peccato Poteva essere mia No no Se mi riesci a bloccare Grazie sui Ma grazie Triggs Sali 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 che andiamo a schiacciare Peppy No Come Gabriella Erato Peppy Amico tuo Dari Amici tuoi Io lo devo varare Lo aiuto Piano 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 Liscio Riam Belliscio Sta macchina è troppo difficile Ehi Ehi Allora due punti però Siamo a due bei punti Ah no Sbaglio io Verso sinistra Mi devo ricordare sempre Verso sinistra Sì Eccoli Ok Vediamo Verso sinistra Raga Ehi vabbè Altra persona Non ci poteva stare Stile level Asione Scendiamo Vedi Ah non vedi Raga Punti sempre buoni Sinistra Eh ma gira No gira da sola Forse ce la facevo Ma dico proprio forse Raga Gira da sola Sta macchinetta Oh Buono Certo Ma te Tanto già non ce l'ho fatto Un po' Dedi Panico Non fa mai male Giustamente Dov'è Antonini Sì? Forse non ce l'ho arrivato Non ce l'ho arrivato Non ce l'ho arrivato Non era buono Il boost Era perfetto Veramente perfetto Eh peccato Io trovo la franco lino Invece Creatore Dai creatore Chi è questo? Sui no Buono? No Mi ha rallentato Raga Mi ha rallentato Quella minibotta Che peccato A me Ti schiaccierei Aspettate Buono Itricks Questo è buono Sì Quanti punti hanno fatto Gli altri Quanti Quanti Troppi Raga Veramente Eccessivi Qui non vinceremo mai Non vinceremo mai Raga Vabbè un punto Stanno avanti Non è che Così tanto Forse c'è il macinino No Se lo so fregato No Ah no No L'ho fatto liscio Forse c'è un'altra macchina Oh Zitti Questa è buona Da mamma Itricks Sali Itricks Sali Sali Andiamo Speriamo Speriamo la primera Mezza distrutta Speriamo 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 No Hanno consegnato Già Ultimo round Che vince Quello vince tutto Raga Come questa volta vinciamo Vinceremo Vinceremo Matteo Vinceremo Fai i punti Sta a perdere Tre volte Di seguito Due volte Bonito No 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 Raga Dove è che ha perso boost Spiegatemelo Non lo so Non lo caprendo io Perfetto Raga Meglio di così Non potevo fare Niente Eh Questo succede Se si va troppo veloci Se Forse è meglio andare Oh bravo Antonini Ok Rimettiamoci bene Raga Che vale Peppy Ok Andiamo Andiamo Raga Andiamo Buono Oh Soprattutto Soprattutto Mamma mia Meno male che ha messo Il coso Del secchiello Stava super a tutto Raga Bella darkness Che è successo Il suino Non è caduto Buono 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 Due punti Per Nore Due bei punti Favolosi Meravigliosi Bella sta Moda Raga Una volta Mi ricordate Quando ho fatto Il cerchietto Impennando Lo devo rifare In qualche Altro Qui attendono Aspettate Raga E' qua Vieni Posso fare Tipo Quei calci No Non so Come si fa Aiaiaiaia Mattag Sei stato te Ah Volete La macchina La macchina A me sta Bella Macchinetta Sei perdonato No Ma non fa Punto Aratelo Aratelo Raga Aratelo Pura radina Non gli fa male Così No 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 Nemmeno ci provo Raga Nemmeno ci provo Pensavo per un attimo Che giuro Credevo Ma Credevo male No Che come hanno consegnato Raga Come Dai Non mi si gira bene Oh Fra un culino consegnato No Pura le bar No Raga Mi sa che Purtroppo Purtroppo Niente da fare Oggi Col paschettino Certo Una domanda A trabocchetto Dai Raga Perché No Tutti Allora Se io ho consegnato Consegnato Raga Sì Abbiamo consegnato Subito Buono No Tonini In mezzo Oh Fa niente a Tonini Mi ha dato boost Mi ha dato boost Raga Ok C'abbiamo ancora Qualche piccola Speranza Non penso Ma proprio Minuscola Speranza No no Io devo andare Non posso Perdere tempo Raga Non perdete tempo Per fuori Schiaccio Andiamo a fare punto Non ci sono macchine L'Archina è stata La mia macchina Un mal macinino Corri 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 Raga Per favore Fate punto Chi è che sta Alle barre Non schiacciare La gente Vai a fare punto Oh Chi c'è là Le barre Non lo so Raga In questi tempi Così Rischiosi Di perdita Ah Raga Scendiamo Due punti Solamente due Raga Bravo Pietro Più Bravo Non mi si gira Bravo Black Tiger Mamma mia Ragazzi Zitti 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 Qua c'è un sentuario Di vincita Siamo pari Mancano solamente Due punti Non mi si gira Però America Non mi si gira Non mi si gira La macchina Io non comprendo Come devo fare Abbiamo questa rampetta Ma perché Non sapete spiegare il perché Io non lo so Perché Dai Dai Regà C'è un'ansia Buggatissima No è buggatissima Regà Gira da sola Sta macchina Ci dobbiamo avere fortuna Non c'è niente da fare Cioè Guardate come ribalza No Cabri 18 No Cabri 18 No Perché Dite che funziona Con la ribalza Siete sicuri Aspetta Uh No Poteva consegnare Regà Poteva Niente I vincitori I vincitori Comunque siamo sempre noi Regà State tranquilli Perché L'importante è partecipare Quindi abbiamo vinto Se uno partecipa vince Se vi è piaciuta la cattura Estate 2023 Di Porch Italy Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Ciao a tutti Grazie a tutti.